Bentornati i miei cari spettatori del nuovo episodio di Kingdom Hearts! Nord Boys League Final Mix! Insomma, ho 18 anni che ho completato il Castello dei Sogni E adesso mi andare in questo nuovo mondo, visitiamo e cominciamo Spirit of the Mirror, come from the far the space, through wind and darkness I summon thee, speak! Show me thy face! What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, majesty, but hold, a lovely maid I see, alas, she is more fair than thee! Alas, for her! Reveal her name! Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow A mirror that knows and sees everything. How about that? A heart of snow white doth shine bright, beware my queen, a heart of light Another one? Wait, what if Master Xehanort is here? Who goes there? My name is Terra. I'm looking for a man named Xehanort. Master Xehanort. I thought maybe you might have seen him. That name is of no consequence to me. Wait. Ah, yes. I have a task for you. If you succeed, I will ask the mirror where you might find this Master Xehanort. And the mirror will know? Do you dare to question me? What is the task? There is a young maid who resides in this castle. Her name is Snow White. Kill her. And to make sure you do not fail, bring back her heart in this. Her heart. I don't understand. You're after the hearts of light too? What I demand is her life. I've had more than enough of her light. What did this maiden do to you? That is no concern of yours. Now, heed my words. My radiance is all the light this kingdom needs. Where can I find her? Outside the castle, there is a glade of wild flowers. You are dismissed. Go now and seek her there. A heart of light. This Snow White is my best chance right now. Maybe she will leave me closer to Master Xehanort. But what if I... No. I won't let that happen. The forest of the nani. The forest of the nani. Ok su Aaron piccolionezza Andiamo da Biancaneve Snow White Quindi questo è il mondo del film Biancaneve Sì posso spettarle Ok Come sono le emozioni? Come sono le emozioni? Come sono le emozioni? Come sono le emozioni? Vuoi qualcosa? Torni in attesa Trampazione Scusate ragazzi se quello controllo è nata una cosa Lama Chaos Scusate che è un'altra Con un po' Chaos Così c'è? Perfetto Oh Buongiorno Come sono le emozioni? Come sono le emozioni? Come sono le emozioni? Ok Si Come sono le emozioni? Non è un tic o no? Interessante Non ho aspettato un attimo Non ho aspettato via, non ho trovato dei polizia se ci sono Non è quello verde, non è stato santo Mono Aspetta, forse l'ho trovato. No. Miseria. Lo rimetto subito. Forse devo fare un piranha. Potremmo caricare. E' il piranha. Concentrati. Fire! Si. Devo fare cosi. Ok, cosa devo mettere? Colpa fissita. Cuoio. Corri. E' la Fenja san. Si. Perque. Fai. in bilancia. Non c'è nulla Muori Ok, quell'altro sono le bombe, d'accordo E' bando ancora Non lo so, cazzo che dico cazzo lui Muori No, mannaggia il demonio Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Adesso... Ma adesso ancora... ...thunder... ...e due... ...perfetto. Te non tocco neanche molto. Ok. 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 Questa difesa, altra abilità. Perfetto. Qui dopo. Mi stira. Mi ha portato. Mi ha portato. Mi ha portato. Mi ha portato. Mori. Adesso è un minuto. Adesso andando. Posso andare via. Perfetto. Eh... Dove hai fatto un po' di risveglia l'interfatale per la terra. Mori. Così. Pozione. Beh, anche questo interno è un po'. E' un'interno da lei. Ok. Un secondo. Un secondo. Nooo. Mannaggia. Via. Abbiamo scontato. Adesso va. Un secondo. Adesso va. Una pozione. Ho voluto. Eh. Lo sono appena toccato. Un secondo. Un secondo. Non trover dino. Dove sono andato? Sì, non è uscito. Ero grassi di zona. sono andato con i subterrani ok, i subterrani sono andato a un freer di probabilmente se non mi dispiace, non mi dispiace addirittura di forza ultima che ti è dato al 100% non sono andato e adesso non mi fermo ok, devo migliorarmi un'altra cosa scusate ok 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 buono no 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 è pieno che interessante no 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 cosa mi verrà fuori troviamo tundara cosa fa tundara no no non tundana lancio i tuoi sui tuoni sui nemici vicini colpito quando il un riflesso scarico che è un barato a cuono, interessante non utile qui c'è un voluto per salvare ma adesso lo salverò la mia pure questione ti prego, grazie a dire ecco ma beh, tutta mia ok 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 I wonder if that's her. Oh! Oh, hello. Who are you? Aren't you startled? Should I be? It's true, then. Her heart is pure light. She's the one. Is something the matter? Does the name Xehanort mean anything to you? Why, why no. I don't think I've ever heard that name. Now what? Unversed. Hey, wait! Don't go in there alone. Out of my way! Complimenti, Terra. Hai fatto, super-svalentato. L'angevita, la piccola biancaneve. Complimenti. Ci sei fare con le donne. Madonna. Oh! Oh! Find out this game. Oh, I need some cards. See? Oh! 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 I can't do that! Oh! I can't do that anymore. Oh! 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 E' un po' Ah, così muoio un po' Oh, non lo parava Non lo parava Puccio o nirica Cos'è? Lo so, appena il pacco Perché stanno volando? Ma cos'è? Sento un impatto Ok Ok E' un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Hele che scorse nei video sto parlo adesso un po poco poco e lo scatto aereo per quanto mentre effetti un salto per i tuoi movimenti aia quando più ampia o questo mi sarebbe per vedere quell'immagine nel mondo di cenerentola la storia no anything about masters e in order da l'esplosione del mio back it the castle buonasera mi sto dicendo è che voglio farvi soprattutto nei filmati parlo poi voglio farvi godere per questo aspettate che non fa una cosa tu sei tra l'amone allora c'è qualcosa altro qui no ok si può tornare dietro Ho passato per tutto quello di là eh? Cosa mi dice di sì? Non andiamo a lanciare Ok Non è arrivato dopo, potenzi è tanto che sarebbe Non dobbiamo andare per farli poter anche questo così bello di questo gioco bisogna goderselo a fondo allora l'ho guardate mi parla del cielo è il mio non suonare ah la scottina di un po d'oro il mio mi è ora questo era un migliore la scottina di un 40% come dare checasti volete qui, questo peppio mi parli di cosa parlate? Ho chiesto che ti portavo a me portare il cuore Snow White. Una domanda che ho chiesto di ignorare. Voi sapere che sei radiante, ma tutto che vedo sono scopi di dolce, che restano sul tuo cuore. Voi pagare per questa insolenza! Magic mirror on the wall! Consume this fool once and for all! Alas, mio liege, that I cannot do. I have no power, save answers true. Huh? You dare defy your queen?! Oh, no! 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 Cosa c'ha messo dentro il tuo specchio delle brane? Merda! Tu il boss in questo mondo? D'accordo, mi faccio il detto. Sì! Lo spezzerò! Un po' mi dà che ho sette anni ci dirà! No! Oh! Oh, no! Voi… Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! Voi… Uh. Vuoi alcuna? Cosa? 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 No, ho sbagliato! Cosa? No, 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 no! Dai! Cosa? 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 Porca di natrona! Tu non sei, stai... Ma... 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 Ma sciottato! Sti cazzi! Ok specchiattino, andiamoci Sotto Sotto È Ma Ok Sotto Ho È È Sotto È È È È È È È Ok, bene, tutti, tutti. No, vada! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Mi ha preso l'angia a fuoco? Abbassante! Come scappavi? Ora dovrai chiedere il mirror dove posso trovare il Master Xehanort? Magica mirror instruccl this knave! Dive him the answers he doth crave! Beyond both light and dark he dwells where war was waged upon the fells. Is that all? Thanks. You've been a big help. Master Erakis said he first received word of these events from Master Yen Sid. Maybe it's time I went and spoke with him myself. I went off. Sette miniere. Cable dà il potere magico e di attacco molto bilanciato. Il raggio d'attacco è ilimitato. Sette miniere. Cabe di attacco tutto ciò? Inoltre in un pozzo? Di attacco qui è andato. Sette miniere. Cosa? Cosa? Sette miniere. Ah, non правильно. ancora 92% ma dai beh signori questo episodio è giunto al termine non ci vediamo in posto di andare a visitare la torre misteriosa beh vi ricordo di lasciare un like di commentare, di condividere ma soprattutto di iscrivervi e guardate che il vostro cuore sia un vostro che bevete ma guardate